Sarà un'estate corta e complicata. Il presidente dell'Enit, Giorgio Palmucci, cerca di mantenere un certo ottimismo, ma la situazione del settore è tutt'altro che rosea. Due mesi di lockdown pesano e tanto sul comparto e i prossimi mesi non saranno una passeggiata. Nel corso del mese di marzo ed aprile ovviamente c'è stato un crollo del 95-99%, quindi praticamente ha zerato completamente e adesso tutto dipende da quando ci si potrà spostare e tra una regione e l'altra e soprattutto quando si potranno aprire quelli che sono i confini con i paesi, almeno i paesi limitrofi. Molto dipenderà dal famoso Recovery Fund, quindi questi fondi che dovranno essere messi a disposizione, che saranno messi a disposizione dell'Unione Europea e per i quali il ministro Franceschini e il nostro governo ha indicato che una parte di questi fondi saranno sicuramente destinati per sostenere l'intero settore. Quest'estate sarà un'estate comunque corta e complicata. Noi abbiamo il vantaggio rispetto ad altri paesi come per esempio la Grecia, come per esempio la Croazia, nel quale non esiste un turismo domestico, per cui vivono esclusivamente praticamente di un turismo internazionale. Noi nel 2018-2019 abbiamo avuto due anni straordinari, ma in cui il turismo domestico rappresentava circa il 50% del turismo, per cui di fronte a una chiusura dei confini anche il fatto che gli italiani non andranno all'estero, andranno all'estero in misura minima, potrà permettere di compensare almeno in parte la perda di turisti internazionali.